Ecco, ecco, ci stai per un braccio in giù. Lascialo qui. Aspetta, vai, no. No, adesso c'è il tuo. Aspetta. No, lascialo, lascialo qui, mi piace. Senti, ti ricordi quei due l'altro giorno sulla panchina? Sì, com'era? Aspetta. Erano più divertenti quei due che si guardavano. Guarda, aspetta. Io me ne ricordo altri due. Quali due? Un po' di voi. Mmh. 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 Ah, no! Ah, no! Ah? 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 Ah! 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 Che tardi! Per te, non per me. Ah! Per te, non per me. Ah? Per te... Per te, non per me. Per te, non per te, non per me. Per te, non per te. Non per me. Per. Per jagungi oss. Ci vediamo domani Ci vediamo domani e dopo domani È il giorno dopo e l'altro ancora È quello dopo È stasera Alle otto Solito posto Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima